Dopo la falsa partenza di Lugia, ancora un rinvio per il processo relativo al disastro di Montedoglio. Sul banco degli imputati, Diego Zurli, ex direttore dell'ente Rigo Umbro Toscano, e Stefano Cola, ingegnere che lavorava all'epoca dei fatti per il medesimo ente, i due devono rispondere del reato di disastro ambientale. Secondo l'accusa, infatti, entrambi avrebbero sottovalutato il significato della crepa che addirittura nel 2006 si aprì in uno dei conci. Stamattina è stata un'udienza di appoggio perché il giudice era indisposto, rinvio al 28 febbraio e cambierà anche il giudice che poi deciderà di questo processo. Il 28 febbraio si discuterà anche della missione delle parti civili e del responsabile? Sì, il 28 febbraio si discuterà della missione delle parti civili e stamattina si sono costituite a altre due onlus ambientaliste e sulla richiesta che una parte civile ha fatto di chiamata in causa del responsabile civile l'ente Acque Umbro Toscane. Intanto ci sono due consulenze, una di parte e una depositata dalla Procura. Qual è il contenuto? C'è una consulenza depositata dalla Procura. Noi abbiamo una perizia che è stata svolta nell'ambito di un giudizio di fronte al Tribunale delle Acque che spenderemo quando il processo poi entrerà nel vivo. Secondo noi è decisiva perché esclude che vi sia stato il disastro ipotizzato dalla Procura fa un quadro per noi molto chiaro di quello che effettivamente è avvenuto. La vicenda è quella relativa al disastro del 29 dicembre 2010 quando a Montedoglio nella diga situata in Valtiberina vennero giù i conci che sul lato sostengono l'impianto e da lì l'acqua dell'invaso si riversò nel Tevere provocandone la piena.